Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Solo pochi giorni fa, al termine dell'episodio di Verissimo, Silvia Tofanin ha dedicato alcuni istanti per degli auguri molto speciali. A questo punto, ha detto Silvia Tofanin guardando la telecamera, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Verissimo. Prima di salutarci, volevo fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio, da parte mia e dei nostri cuccioli Lorenzo e Sofia. Naturalmente, poco dopo, sul profilo social di Verissimo è apparso il video con la dolcissima dedica di Silvia Tofanin. Non poteva mancare la risposta di Pier Silvio, che ha optato per un canale non usuale per lui, grazie a tutti per gli auguri. Pier Silvio utilizzando il profilo di Verissimo. E la reazione sui social è stata accesa, molti infatti hanno ipotizzato che l'uomo abbia chiesto alla moglie, che avrà accesso ai social del programma, di ringraziare tutti a suo nome. C'è anche chi pensa che l'uomo abbia commesso un errore nel rivelare che dietro ai social di Verissimo ci sia anche lui e che in realtà abbia accesso a tutti i social della moglie. Insomma, sembra che nemmeno una delle persone più influenti del paese possa sfuggire alla frenesia dei social media. E voi, cosa ne pensate? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore